Certamente questa è una cattura che chiude un lungo ciclo di ricerche che erano state compiute dai carabinieri nel tempo, segnatamente dalla stazione di Arena, dalla compagnia di Serra San Bruno, dal nucleo investigativo del comando provinciale e dallo squadrone cacciatori del gruppo operativo Calabria. È un punto a nostro favore, è un punto fermo che risolve un problema che avevamo nelle Serre e che era costituito dallo stato di latitanza del Maiolo. Era la priorità numero uno in questi territori, a maggior ragione perché si tratta di terreni impervi, talvolta poco ospitali e che hanno reso difficile i servizi e le ricerche. Ci tengo a precisare che questa è stata un'indagine vecchia maniera, con uomini proiettati sul terreno dalla mattina alla sera, senza guardare l'orologio, esposti ad ogni tipo di intemperie, ebbene il loro impegno è stato premiato. Che ruolo avrebbe la famiglia Maiolo nelle dinamiche della faida che ha colpito negli ultimi mesi le preserre? Sappiamo che i Maiolo sono storicamente legati alla famiglia Emanuele, famiglia Emanuele che è contrapposta a Iloielo o Gallace, poi ci sono tutta una serie di dinamiche in corso di investigazione. Cristina Iannuzzi per l'AC News 24 Emanuele, famiglia 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 Emanuele,